Ciao a tutti ragazzi sono YakiDale e oggi inizieremo una nuova serie, una serie epica ma allo stesso tempo durissima per me perchè si ragazzi proverò a raggiungere la lega campione si tratta infatti di un road to champions, vi mostrerò attacchi, difese e robe varie che farò scalando piano piano di trofei ovviamente non scalerò da solo ma scalerò assieme a tutto il mio clan, sono ovviamente nel clan unici vi ricordo che potete tranquillamente passare purché siate di livello 90-100 più o meno e vabbè ovviamente siamo in scalato quindi dovrete scalare anche voi insieme a noi e a parte questo gioco di parole diciamo un attimo che strategie userò userò principalmente queste due truppe quindi barbari e arcieri diciamo cercherò di fare il 50% perchè questa secondo me è la strategia migliore economica e veloce da fare quindi si fanno un sacco di attacchi a fila e anche se si guadagnano pochi trofei a volta comunque è una strategia economica e in mezzo magari ci pianterò qualche attacco mongolfiere sgheri, mongolfiere draghi, solo draghi un po' di tutto diciamo e ragazzi sarà diciamo abbastanza facile fino a cristallo 1 e poi diventerà lì molto molto difficile so ragazzi che sono già arrivato a master ma comunque ero a livello 80 quindi erano altri tempi e però ragazzi da master a campioni c'è veramente una grandissima differenza e speriamo di riuscire a farcela, io spero vivamente di riuscire a farcela però non credo cioè sono ottimista però cioè ragazzi è veramente una cosa durissima quindi se avete dei consigli se magari siete arrivati con un municipio a livello 9 in lega campioni potete scrivermi qui sotto nei commenti come avete fatto a farlo veramente ragazzi io ho visto pochissima gente con un municipio a livello 9 in lega campioni però non è impossibile perché alcuni ce l'hanno fatta uno di questi è appunto il villaggio fatto così quindi l'ho copiato direttamente da lui e speriamo che questo villaggio rega quindi copiatelo se volete scalare anche voi se no ragazzi se non funziona lo cambierò nel corso della serie ragazzi detto questo questo video è un video abbastanza breve volevo solo presentarvi questa nuova serie io sono a 1492 trofei dovrò arrivare a 3200 trofei vediamo cioè solo questi due numeri mi spaventano un attimo però ragazzi speriamo 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 avrò detto 100 volte speriamo in questo video avrò detto 100 volte che sarà una missione impossibile ma veramente è impossibile ragazzi quindi ragazzi scusate se sono stato ripetitivo da adesso inizierò a scalare inizierò a fare attacchi per arrivare più in alto possibile e un giorno magari riuscirò ad arrivare in lega campioni speriamo entro il 2400 dopo Cristo quindi ragazzi per questo video era tutto spero che questa idea di fare questa nuova serie vi sia piaciuta scrivetemi qui sotto nei commenti cosa ne pensate e se avete qualche consiglio passate per la pagina facebook mettete un bel mi piace mi raccomando e niente ragazzi noi ci vediamo nel prossimo video ciao